Ed ecco che la quarta dose del vaccino anti-Covid che alcuni stati stanno introducendo, si mostra in tutta la sua potenza finale. Nei giorni scorsi quattro medici sono deceduti improvvisamente nella provincia canadese dell'Ontario, dove è stata attuata da poco la campagna vaccinale per la quarta dose agli operatori sanitari, ma le autorità smentiscono qualsiasi collegamento. Infatti, solo due giorni fa, il 27 luglio, tentando di reprimere i pettegolezzi e le speculazioni sui social media, le direzioni di due ospedali della Greater Toronto Area, hanno confermato la morte di quattro medici in una settimana, ma negano qualsiasi connessione con le vaccinazioni Covid-19. Tre dei medici provenivano dal Trilliam Health Partner di Mississauga e uno dal North York General Hospital. E il 28 luglio, a questi quattro medici si è aggiunta, sempre nell'Ontario, una pediatra di 27 anni. Era una triatleta la dottoressa Naiman e commentava regolarmente sui social media il suo amore per l'allenamento e le corse. Candace Brook Naiman è morta giovedì 28 luglio 2022 gareggiando e facendo ciò che amava, afferma il suo necrologio. Ovviamente, sia chiaro, non c'è nessuna correlazione con la quarta dose appena fatta, nell'ambito della campagna vaccinale per gli operatori sanitari, promossa dallo Stato canadese. Si può tranquillamente affermare che tutto stia procedendo secondo i piani del governo canadese.